Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale JustinApple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come JustiRosati e oggi voglio presentarvi un'app fantastica per Mac. Lost Photo è un'app per Mac creata dalla software house Space Inc disponibile nel Mac App Store in maniera totalmente gratuita. Il software presenta da subito un'interfaccia semplice e molto pulita con l'immediata prima necessità di conoscere la nostra email con anessa password per iniziare a lavorare. Perché? Cosa fa questo software? Semplicemente scandaglia tutta la nostra inbox catalogando ed archiviando tutte le immagini che negli anni abbiamo ricevuto per email. Potremmo decidere, per cercare di eliminare eventuali immagini poco significative come quelle delle firme in email, di non tenere presenti quelle con una grandezza inferiore ai 10k e quelle in formato GIF, che solitamente sono delle animazioni inutili che per qualche strana ragione migliaia di persone credono simpatiche da inviare. Alla fine del processo di scanning, che potrebbe per la prima volta durare decine di minuti, avremo così un'app che velocemente potrà fornirci, senza una difficoltosa ricerca nella nostra inbox, la galleria di tutte le immagini ricevute dalla notte dei tempi sul nostro indirizzo email. Tra le possibili feature che vorrei dare ai prossimi release, contando che siamo appena alla 1.1, sarebbe il supporto a più caselle email in modo da avere una gestione completa delle immagini ricevute durante tutta la propria vita sul web. Utile, ben fatta e gradevole nell'uso, Lost Photo diventerà sicuramente un'app da consigliare a tutti i vostri amici. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione. Grazie. Grazie.